Nella famiglia Spivet, ciascun membro è fuori dal comune. No! Non toccate i miei coreoteri giapponesi! Io padre ha l'anima, la statura e la mentalità di un cowboy. Mia madre invece pensa di essere una grande naturalista. Come fanno a piacersi? Ha un mistero. Sono come il giorno e la notte. Quanto a mia sorella Gracie, sogna di diventare una star. Poi ci sono io, T.S., il prodigio, la mente scientifica. E infine mio fratello gemello Leighton. L'ho spericolato. T.S. Spivet, la sua invenzione ha vinto il nostro prestigioso Bird Award. Wow! Mi hanno scambiato per un adulto. Il viaggio mi terrorizza. Ma è deciso. Domani parto per Washington DC. Cara famiglia Spivet, starò via un po' di tempo per sbrigare qualche lavoro. Non preoccupatevi, starò bene. Vieni gli occhi aperti. Pronto? T.S. Non ho capito cosa cercavi, ma non me ne importa nulla. Resta sempre in gamba. Buona fortuna, amico. Mi spiace per ciò che ho fatto. Nessuno ne ha più parlato. Non è stata colpa tua. Non è stata colpa tua. Il mio fratello! Non posso crederci in televisione! Sì, in televisione! Signore e signore T.S. Spivert